Un giorno lontano, quando ero innocente, tutta passione e virtù, se un tale veniva a farmi la corte, gli davo assai poco e mai di più. Cosa importava a me che fosse ricco e ben lavato anche il venerdì, e che educato fosse proprio come il po', io rispondevo no. E direi, grazie di passare così veloce, passare l'amore e passare le regole, e tutto pronto, dove sono le lacrime, dove è la neige che è tornata l'anno scorso? E tutto pronto, dove sono le lacrime, dove è la neige che tomba l'anno scorso? In quest'ultimi tempi io penso spesso a quando anni fa tu mi dicevi che ci sono persone che valgono e altre che valgono meno, che alle prime si dà l'insulina, se avevano il diabete, e alle altre no. Allora mi sembrava naturale, stupida, eh? Bene, adesso hanno fatto un'altra distinzione del genere, ed evidentemente io appartengo alla razza che vale meno. ben mi sta, ma dieci anni fa quando ti dicevano che non si vedeva affatto che tua moglie fosse ebrea, tu replicavi, eh, altro che. Beh, mi faceva piacere, era, era sincerità. Perché non avere adesso il coraggio di dire le cose come sono? Io faccio i bagagli, Fritz, perché altrimenti tu non sarai più primario, perché quelli della clinica già ti salutano a stento e tu non ci dormi la notte. e non voglio che tu mi dica che non devo andarmene. Anzi, io mi affretto a fare i bagagli affinché tu un giorno non mi dica ora devi andartene. Ci rimise un di le penne M'è la colpa Chi l'avrà? Ci rimise un di le penne M'è la colpa Chi l'avrà? La vetrana Sarascazzi Poco Aram La giat Donald Trump c'è là col mondo Chi sa come Finirà Donald Trump c'è là col mondo Chi sa come Finirà Noi siamo quel futuro Quello che arriverà Che siano i nostri sogni Del domani La realtà La realtà Ci rimise un di le penne 1200 Che avrà Tare Qu Web Che avrà Che ann summer Che avrà